è sempre un onore stare vicino al maestro buona maestro Levi buona buona posso? c'è un letto? ma vedete la mia letta rimane dietro 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 ma è grosso ma dai come c'è se tu mi vuole i media di puglia ma i normali però ovviamente beh ma è passato ci diamo dal basso basso dopo al basso anche oh alzo grazie a tutti grazie Grazie a tutti 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 Grazie a tutti